Benvenuti a Doppia Sfida! L'adrenalinica gara che metterà alla prova la vostra forza, abilità e fratellanza e in cui saranno premiati i fratelli migliori! Ecco a voi la star dello show, Brody Bragan! Siete meravigliosi! Allora siete pronti per un'altra doppia sfida? Sei fantastico, Brody! Stasera ci aspetta una puntata mozzafiato! Un bell'applauso per Gritz, Panda e Orso Bianco! Ciao a tutti! Salve! L'altra squadra di fratelli è formata in realtà da tre coinquilini! Un bell'applauso per Gritz, Isaac e Tom! Salve, tutto a posto, gente! Cosa? Sembrano gemelli! Ehi, un momento, ma... Panda, come vai? Ma come hai fatto? Va bene, prima tu! Che cosa fai qui, scusa? Sono venuto a rapirti di nuovo! Cosa? Ma no, scherzo! Non fraternizzare col nemico! Ma guarda un po', a quanto pare i nostri cari Tom e Panda si conoscono! Uh, che imbarazzo! Ora conosciamo i concorrenti, Orsi! Raccontateci qualcosa su di voi! Eh, sono felicemente disoccupato e mi prendo cura dei miei fratellini! Orso Bianco ama cucinare! Io sono single, cerco l'amore che dia e il batticuore! E voi che ci dite, ragazzi? Ehi, come va? Io sono Grif, un ex poliziotto che pulisce le strade e le rende sicure! Isaac è una chef a tre stelle! E io sono fidanzato! Cosa? Ora le due squadre si sfideranno senza riserve perché chi vince potrà andare ad abitare in questa nuovissima, splendida villa! Con un campo di basket, una cucina super attrezzata e un meraviglioso studio d'arte nell'attico! Uh, non ho mai visto niente al mondo di più bello! Ragazzi, dobbiamo vincere! Quella super villa deve essere nostra! A Orso Bianco serve un buon frigo e spazio privato. Allora, gente, diamo inizio al primo round di... Doppia sfida! Doppia sfida! Bene, Gritz e Griffer scendono in campo per primi! Due punti in palio per chi riuscirà a ripulire la città dalle sagome dei brutti ceffi che si incontrano per strada! Ottimo! In polizia ho già fatto allenamenti del genere! Eh, anch'io! Ma attenti! Non tutte le sagome raffigurano un pericolo, perciò non maltrattate i semplici passanti! Chiaro? Bene! Ai vostri posti? Pronti? Via! Faccio paura! Caccia i soldi! Migini, ecco la pappa! Che errore, Gritzer! Chiaramente una nonna, non un brutto ceffo! Oh no, è stato un incidente! Oh no, mi dispiace! Oh no! 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 Sì! Oh no! Beh, non ci sono dubbi su chi sia il vincitore! Un bell'applauso per Griff! Eh, ragazzi, aiuto! Doppia spida! Doppia spida!